Avete mai avuto una migliore amica? Io sì, e con lei ho passato i momenti più belli della mia vita. I momenti più belli, certo, ma anche quelli difficili, giorno dopo giorno, mese dopo mese, fino ad arrivare a capire di avere una spalla su di appoggiarti, confidarti, trovare un rifugio nel momento del bisogno, fino ad arrivare a credere di essere disposti a tutto per proteggere quell'amicizia. Occhi terzi, il cortometraggio vincitore del Bando Comunale per le Attività Giovanili 2018, è stato presentato mercoledì pomeriggio all'Informa Giovani di Piazza Sant'Agostino, nel corso di una serata aperta agli studenti delle scuole a retine e alla cittadinanza. Il corto affronta un tema tanto delicato quanto attuale come quello del bullismo, ma lo fa da un punto di vista insolito, non quello dunque né del bullo né della vittima, ma da quello degli occhi terzi di un amico, che pur non vivendo la violenza in prima persona ne diventa comunque testimone. Non ti devi muovere! Dove pensi di andare? Stai ferma! Pensi di scamparla così? Sembra solo degli stronti, anche come si è qui! Devi pure quello che vuoi, noi abbiamo le foto, possiamo decidere di usarle dove e quando ci vanno! Non so di rinforzare, oppure... Oppure cosa? Se tu vuoi raccontare qualcosa, noi pubblichiamo le foto dappertutto! È sempre emozionante quando si presenta un prodotto fatto da noi, però la cosa più importante, come diciamo sempre, è trovarci qui a discutere di un tema importante e vedere che ci sono sia giovani, siano persone adulte a discutere di un tema attuale e concreto come quello del bullismo. Quindi la soddisfazione più grande è quella di aver creato questa serata.